Adesso basta, adesso proprio basta, non è possibile, non è possibile, ho visto CiuCiuGamer sotto l'ultimo video Che era impazzito perché alcuni di voi l'hanno accoltellato alle palle e alle spalle, c'è, adesso vi racconto cosa è successo Praticamente un canale fognatura, un canale schifoso con 20.000 iscritti, quindi uno che non conta nulla Cioè prima gli lecca il culo a CiuCiuGamer e gli dice CiuCiuGamer, ciao, come stai? Sponsorizzami, aiutami Poi il meticissimo CiuCiuGamer lo sponsorizza perché ha un cuore grandissimo E questo qui da 20.000 iscritti lo tradisce e lo pugnava le palle Cioè ma come vi permettete? Come vi permettete? Il mio CiuCiuGamer non si tocca, adesso basta, quindi io e CiuCiuGamer combatteremo Per far chiudere tutte le pagine di Facebook che lo insultano Cioè lui adesso si è stufato e anche io e anche tutti i suoi fans e tutti noi paguri Ci siamo stufati, avete capito? Quindi io ho preso in mano l'iniziativa e ho fatto il bunker per salvare i miei youtuber preferiti E creare la nostra famiglia e quindi io sto giocando a The Shelt Red The Shelt Red e adesso vedete il mio personaggio principale, il capo famiglia Che si chiama CiuCiuGamer e ovviamente è un piccolo mangiatore È atletico e gli ho fatto la magliettina e i pantaloncini E dopo vi faccio vedere gli altri personaggi Comunque non vi dovete più permettere di appugnalare alle palle le persone Soprattutto quelli più grandi di voi su Youtube che hanno più iscritti e quindi sono migliori di voi Proprio perché hanno più iscritti, il resto non conta E allora basta eh, perché adesso basta, perché dopo mi incazzo e divento cattivo Allora adesso vi faccio vedere gli altri personaggi Poi ho fatto FabiJ che è la mia mamma FabiJ diventate la mia mamma È coraggioso ovviamente, è navigato perché lui su Youtube è navigato E qui poi ho fatto CarratoJ, mi sono fatto io Ovviamente come potete vedere ho la pelle verde Sono ingegnoso e sapientone cioè Però la sapienza può accompagnare solo E poi c'è il mio amore Gretta Menchi Che lo faccio partecipe, è iperattiva perché lei nei video è stupenderima È attiva, è simpaticissima E adesso andiamo a vedere la famiglia Allora il cane, eccolo qua il cagnolino E poi possiamo scegliere tra altri animali Ma io preferisco avere il cagnolino E lo chiameremo, vediamo come lo possiamo chiamare il cagnolino Aspettate che ci penso eh, aspettate che ci penso Oh non è venuta l'idea Lo chiamiamo Dallinello Dallinello, lo chiamiamo il cagnolino Dallinello Così diventerà il mio segugio, il mio cane da pastorizia E poi la famiglia come la chiamiamo la famiglia Cioè siamo CiuCiuGamer, FaliJ, Gretta Menchi e Carletto La chiamo? Allora fammi pensare A... 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 Amore... 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 Jay... E fa... Fam... Li... Amore... Jay Family Eccolo qui la famiglia più bella del Reale Madonna che famiglia Adesso iniziamo subito a giocare che sono emozionato La famiglia amore Jay Family con il cane Dallinello E ci rinchiuderemo in un bunker per evitare che gli haters Che stanno attaccando CiuCiuGamer Possano influenzare la nostra vitalità e la nostra felicità Insomma ecco Perché mi sono rotti i coglioni di questi youtuber qui Che continuano a distruggere i miei youtuber preferiti Perché sono invidiosi Sono sporchi nell'anima Oltre che nell'igiene personale E basta cioè io mi sono... Mi rifiuto Mi rifiuto Di... Di continuare su youtube con questo modo Cioè una volta la community era molto più bella Anche se non c'erano i miei youtuber preferiti Però madonna adesso sta diventando una cosa incredibile Cioè vedo pagine di facebook che insultano il mio amore Favigway Gli dicono venduto Cioè ha fatto lo zaino E allora? E allora? Ho fatto lo zaino Chi è che non ha fatto lo zaino con il proprio marchio? In vita proprio Cioè non lo so Chi è che non lo vende? Ha un casino di soldi per farsi altri soldi Cioè... E fa parte del marketing È giusto? Cioè... Non è che potete criticare Favigway Se si fa le scarpine firmate L'album di figurine I poster E tutte le altre cose Ma state scherzando? Cioè... Sono cose naturali Cioè... Io voglio vedere se... Se voi non facete le stesse cose Se voi eravate famosi come loro Quindi io difendo i miei idoli E quindi non vi dovete più permettere Di insultare come quello schifoso Con 20.000 iscritti Che ha tradito Ciccio Gamer Pugnalandolo alle palle Cioè non vi vergognate Ma voi quando andate davanti allo specchio di casa Cosa vedete? Vedete la vostra faccia di merda? Oppure vedete un fantasma che vi dice Sei stato cottivo Cottivore Non ci si comporta così su YouTube Eh cosa vedete voi eh? Comunque abbiamo mandato Gretamenchi Ad esplorare Una piccola casa Adesso vedremo cosa trova Eccola qui Piccola casa Vediamo cosa trova Oh chi è questa? Che catering Catering Ehi resisti Conferma Allora Ciccio Gamer Posso aiutarti Vedete Ciccio Gamer è sempre gentile Cerca di aiutare tutti Ma catering E' un haters Quindi la picchieremo a morte Perché adesso basta Combattiamo Oh Gretamenchi Ciccio Gamer contro Catering Allora Ciccio Gamer Dai un corpo a corpo Madonna che pugni Sei un mito Ciccio Gamer Difende il tuo canale E adesso c'è Gretamenchi Corpo a corpo Oh mio Dio Che colpaccio Gli ha fatto sanguinamento Mamma che youtuber bravissimi Ha bloccato Anche il colpo di catering Oh mio Dio Oh la gamba E' fuori Madonna che pugnazzi Ciccio Gamer Dai 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 Greca Ma finiscila Uccellila Uccellila